Andiamo via da quella posizione Lì ancora Zedorf, attenzione, appoggia Pirlo Roma molto brava a occupare gli spazi Sì, stanno facendo un grande pressing Pippo cerca di andare, viene avanti Pippo, ancora Pippo, sono davanti al portiere Pippo, 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 Pippo Goal, 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 Goal Pippo, 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 Pippo Vediamo Pippo, Pippo, Pippo Vediamo No, regolare, Colanca, Pippo, alta tensione mio Pippo, alta tensione mio Vai, 18, Pippo, 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 Pippo E sono felice come canta lo striscione là Grande alta tensione Massimiliano Nebuloni Sei bella come Claudia Cifre Grazie Abbiamo detto che l'ingresso di Pippo Inzaghi avrebbe Avrebbe dato sicuramente più profondità al Milan È stato bravo Cevcenco a trovarlo E a mettergli il pallone praticamente davanti al portiere È bravo lui a scattare sul filo del fuorigioco Intanto rivediamo, non c'è assolutamente fuorigioco Visto che i giocatori della Roma hanno protestato a lungo Davanti al guardaline È stato bravo e freddo Lui davanti ad Antonioli A Mio Sul l'angolino più lontano Grazie